ah cosa abbiamo letto nel titolo? reagiamo alle foto di quando ero piccola? siiii ragazzi dopo più di due anni siamo qua tornate a rivedere le mie foto cringe di qualche anno fa se vi si diverse la parte 1 ve la lascio qua nella i bene io direi di cominciare subito perchè mi diverto troppo sono troppo faccio troppo ridere ma io che caspita di facce ho in quelle foto bene io direi di andare subito a buttarci nel passato e cercare queste foto ah mi sono dimenticata di fare un saluto allora tutti vicini io sono Valentina e benvenuti in questo nuovo video ora si che si può iniziare allora ho fatto già una ricerca ho scritto Valentina Olivieri il 16 agosto e mi ha già trovato delle cose interessanti ovviamente oggi è il 16 agosto poi non so quando andrete a vedere questo video però è oggi quindi io il 16 agosto del 2018 ero a Londra wow e guardate che bella è questa foto perchè sembro un vampiro in questa foto ingrandisco solo me perchè merita tanti ci sono venuti decentemente poi ci sono io con sti occhi da pazza rossa vado paura credo che c'è il flash però sembro un vampiro ragazzi io non ve l'ho mai detto ma sono un vampiro si 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 infatti la sera mi si formano questi occhi rossi vado a farmi delle passeggia si non è vero non è vero lasciamo stare però i capelli erano proprio indescrivibili che fa in questo periodo a Londra ho sempre fatto delle foto così con la faccia un po' tumblr non so se io non conosco molto bene tumblr so solo che bisognava essere infelici fare delle espressione un po' tristi niente io facevo sempre queste facce in ogni mia foto sono sempre così a Londra così oh ok qua c'è un ghigno però vedete qua sono già seria non ha senso vedete sono sempre seria ok basta questo è sempre il 2018 no qua invece siamo nel 2012 guardate era già una fashion model ok no io non so perché ma questo giorno me lo ricordo praticamente eravamo in montagna a scattare delle foto so che facevo un caldo mortale e i miei genitori dicevano dai fatti fare due foto in realtà qua io non sono felice sono arrabbiata perché fa caldo ehm io però ricordo anche che poi subito dopo siamo andate a fare delle partite a minigolf quindi poi in realtà la giornata è stata piacevole io con questa mazza da minigolf pronta a tirare in testa qualcuno non è vero però fa troppo ridere l'espressione un po' arrabbiata è quella raga 2008 ma che piccola non ricordo neanche dove fossi ero un centro commerciale ma non lo so forse ero un car foro un hyper cop no un bubalù non so cosa sia però adoravo queste macchinine perché io ero lì nella mia macchina davvero ah fashion però ero carina mi divertivano tantissimo queste macchine perché io ero lì a guidare proprio seduta no non penso neanche giustamente se un bambino non puoi guidare da solo quindi qualcuno ti trenava erano sosti passeggino però molto carino però divertente perché tu eri seduto a goderti la vita mentre gli altri invece dovevano camminare no ok no però guardate qua che brutto trucco faccio gli incubi stanotte sì perché mia sorella aveva deciso di truccarmi e ho fatto male molto male perché voleva trasformarmi in una sorta di bidoll o che ne so comunque con un trucco un po' particolare sentite basta frega niente il 2020-21 andiamo a vedere il 2007 sì l'ho deciso io 2007 avevo un anno allora ci sono mia sorella e mia mamma perché mi prendono in giro praticamente io ho sempre avuto questa faccia un po' arrabbiata perché nei video sono tutta allegra e carina perché sono da sola infatti non c'è mai nessuno in camera mia quando registro ma quando sono in compagnia di qualcuno non è colpa mia ma vengo sempre la faccia un po' seria io sono una ragazza seria ma non la faccia opposta è proprio la mia faccia e poi essendo pure timidi magari poi la gente pensa che io sono proprio cattiva che non voglio nessuno in realtà no io voglio fare amicizia con le persone però cioè con questa faccia non so se magari poi la gente vuole stare vicino a me però ragazzi vi posso sentire che conoscendomi sono abbastanza simpatica no dai non odiatemi però no veramente io ce la metto tutta in una amicizia sono sempre gli altri che se ne vanno io avevo un'amica che mi sta veramente a cuore però questa poi ha iniziato a smettere di uscire con me io continuavo a scriverla anche su whatsapp ma ha smesso pure di scrivermi su whatsapp tanto che io ci sono rimasta malissimo e ho cercato tre volte di magari ricucire rapporti ma lei sempre così fredda se ne fregava allora ho iniziato anch'io a non scrivere più e ovviamente se non sono io a mantenere la conversazione non si continua l'amicizia perché non ci scriviamo adesso da tre mesi ed era la mia migliore amica quindi top vabbè comunque guardatevi questa foto bellissima con me arrabbiata ma con una maglietta rosa con scritto sopra sweet dolce si si proprio due cose opposte io e lei ok no no davvero ero carini io non sapevo mangiare la pasta ah no questa non è anche pasta queste sono è solo torta che carini che siamo c'è stolz amore anche qua gli occhi rossi si si sono proprio un vampiro no vabbè ma sono adorabile ma che dolce che occhioni no perché in questa foto piango guardate sicuramente arrabbiata perché guardate dietro il disordine che ho causato sicuramente sono stata io buttera per tutte quelle sedie e cinque minuti dopo rido sorrido guardate che faccia che carino oddio che forza qua cammino poi qua ti scappo da stolzino che piccolino che era eravamo gli anni uguali lui aveva un anno in meno rispetto a me quindi aveva compiuto pochi mesi magari ecco qua in realtà sono Ariel perché vedete la prima volta che ho avuto una forchetta una riccia spiccia riccia spiccia vabbè la forchetta che utilizzava Ariel per pettinarsi i capelli perché pensava fosse una spazzola io stavo cercando di capire l'utilità di questa di questo marchigegno e vediamo se capisco no preferisco usare le mani brava e così si fa vediamo nel 2012 anno in cui iniziato a fare la prima elementare dai sono curiosa ma che capelli lunghi che paura sta foto sembro The Ring qua poi siamo andati in montagna e abbiamo provato queste attrazioni dove tutti abbiamo fatto parkour ecco dove tutti dove riempicare e fare delle cose mi sono divertita molto quel giorno non mi ricordo molte cose però mi ricordo che mi sono divertita che carina che sono ovviamente non poteva mancare il rembiole con sopra lo kitty perché ero sì una fan di lo kitty come se non si fosse capito oh ma che bello questo vestito ma chi se lo ricordava adesso ne ho uno simile in un prossimo video ve lo faccio vedere che carino io comunque voglio troppo trovare quegli elastici perché erano bellissimi basta cambiamo anno e andiamo nel 2019 ecco perché prima volevo farlo vedere e poi me lo sono dimenticata guardate qua faccia strana io non so fare i selfie tuttora non li so fare non so quale sia il mio problema ma non so tenere un telefono in mano per fare delle foto ok non so con quale coraggio ma io a Natale del 2018 sono andata in giro così con un cappello in testa e con sotto il vestito da elpo cioè con quale coraggio io sono riuscita a fare questa cosa io timida introversa che non ho neanche il coraggio di parlare con qualcuno sono riuscita a fare queste cose da sola perché se ho un compagno con cui farlo lo faccio volentieri ma da sola non faccio mai queste cose bobo hai tutta la mia stima ok basta ragazzi non ce la faccio più basta cringiate basta 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 io spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social su instagram su tiktok e di attivare la campanella per non perdervi nessun altro mio video e noi ci vediamo con un prossimo video ciao